Valtellina Turismo presenta il nuovo Valtellina Bike Magazine alla fiera del cicloturismo a Bologna. Sarà infatti presente con uno stand di promozione nell'area dedicata alle destinazioni turistiche. I visitatori potranno così consultare e raccogliere materiale informativo inerente all'offerta cicloturistica della Valtellina, in primis il Valtellina Bike Magazine 2023, le cartine del Sentirò Valtellina e Ciclabile Val Chiavenna, i due più importanti itinerari di cicloturismo della provincia di Sondrio. L'evento sarà anche la prima occasione per distribuire al pubblico il nuovo Valtellina Bike Magazine appena realizzato da Valtellina Turismo con il supporto dei consorsi. Giunto alla sua quarta edizione il magazine illustra proposte di itinerari, il calendario degli eventi e in generale il racconto dell'offerta bike della destinazione arricchito con approfondimenti legati al food e al territorio. L'edizione di quest'anno presenta una rinnovata veste grafica in coordinamento con il nuovo marchio Valtellina e vede il coinvolgimento di numerosi ambassador valtellinesi e non che descrivono in sintesi la loro passione per la Valtellina come ideale destinazione ciclistica. Testimonial d'eccezione Ivan Basso, già due volte vincitore del Giro d'Italia, che racconta il suo amore sin da bambino per la Valtellina e le grandi sfide vissute da protagonista nel nostro territorio. E poi Justin Matera, volto noto dalla tv e ospite ormai abituale in valle che racconta il passo furcola di Livigno. Quindi Elisa Scarlatta, seguitissima influencer bike, non mancherà Ivan Gotti, ex ciclista professionista e detentore del record di scalata del Mortirolo.